ciao a tutti bentornati bentornate sul mio canale immonda offesa per lo sguardo o sfavillante meraviglia questa è la domanda alla quale siamo chiamati a rispondere in merito alla recensione che andremo a trattare sia essa di anime di film o di serie tv le mie recensioni si suddividono per capitoli che trovate qua sotto l'ultimo capitolo è molto simile a una recensione canonica quindi potete tranquillamente guardare solo quello nel caso in cui il video vi sembri troppo lungo siete pronti allora fatemi sapere che cosa ne pensate attraverso i vostri preziosi commenti the perfect couple è una serie una mini serie per la precisione statunitense del 2000 e 24 uscita se non ricordo male il 6 di settembre sulla piattaforma digitale netflix è ideata da jenna lamia distribuita come dicevo da netflix detratta dall'omonimo romanzo di erin hildelbrand la trama è molto semplice amelia sacks è prossima al matrimonio con benji un rampolo della facoltosa famiglia winbury ma le nozze ahimè vanno a monte a causa della comparsa di un cadavere sulla spiaggia composta da sei episodi che vanno da 42 minuti circa fino arrivare a un'ora e 02 la serie saprà sicuramente intrattenervi nel migliore dei modi soprattutto per gli amanti del genere come vedete da questa immagine il cast è composto di attori di eccellenza indubbia e indiscussa eccellenza diciamo subito che non tutti hanno svolto cioè no perdonatemi tutti hanno svolto egregiamente il loro lavoro però ci sono delle performance che a mio avviso sono sopra le altre tra queste quella che splende maggiormente ma ricordatevi è sempre un mero parere personale è quella di dakota fan in seguita subito dalla simpaticissima irina dubova che fa la cameriera poi a seguire nicole kidman e jack raynor queste ovviamente sono a no perdonatemi perdonatemi ho dimenticato donna lynn champlin che altro non è che nicky harry ovvero il detective uno dei detective che segue il caso di omicidio ovviamente vi dicevo questi sono rappresentano esclusivamente mio parere personale poi è indubbio che complessivamente tutti quanti gli attori abbiano fatto una recitazione ben più che convincente però se dovessi dire se dovessi parlare di chi ha veramente primeggiato i nomi che vi ho fatto in precedenza sono quelli di maggior esalto invece diciamo quelli che mi hanno convinto meno sicuramente ev evson nella parte di amelia sacks non mi ha sempre esaltato e nemmeno nemmeno a dover essere onesto samuel nivola nella parte di will winbury però sono ve lo ribadisco pareri personali fatemi sapere piuttosto che cosa ne pensate voi degli attori della recitazione regia scenografia fotografia e colonna sonora sono di un livello altissimo altissimo la regia non sbava mai ogni inquadratura ogni ripresa nel nel gruviglio di storie che si intrecciano all'interno della famiglia winbury effettivamente è degno di nota una scenografia perfetta che va a ricostruire gli ambienti più alto locati del nostro mondo del nostro universo che popoliamo dove la ricchezza viene sfoggiata senza nessun indugio e la scenografia è abile nel ricostruire gli ambienti più intimi dove poche persone effettivamente avranno accesso nel durante tutto il tragitto della loro vita una fotografia che è perfetta sì è veramente perfetta sia nelle inquadrature degli individui sia nei grand'angoli nelle inquadrature degli occhi alla sergio leone una fotografia maestosa che ci ripropone proprio nella nitidezza degli occhi nelle pupille dilatate nelle vene intorno alle pupille stesse delle immagini perfette perfette veramente è una una meraviglia per gli occhi di uno spettatore attento al dettaglio una colonna sonora sempre avvincente sempre in linea con la storia nonostante non risalti molto è presente e è presente con una certa classe diciamo che questo se dovessi proprio scegliere un capitolo è il capitolo indubbiamente più forte dell'intera serie dell'intera miniserie però come sapete lo dico sempre sono pareri personali è importante poi quello che pensate voi perché siete voi che andate a stabilire l'esito del mercato storia e costruzione dei personaggi seguono a ruota il capitolo prevalente della regia perché perché innanzitutto non sono riuscito ad indovinare il colpevole questo per chi mi conosce è sicuramente uno sfregio per me perché lo indovino quasi sempre e quindi sono rimasto enormemente deruso dalla mia attenzione perché gli indizi c'erano non li ho colti ho sbagliato è chiaro che chi lo ha indovinato ora potrebbe dire ma come non l'ho indovinato era così semplice sì era così semplice ma non l'ho indovinato e quindi per me già questo fa guadagnare la pericola indubbiamente mezzo punto perché perché indovino veramente con una frequenza elevata chi sono i colpevoli che hanno generalmente commesso il crimine in questo caso non ci sono riuscito e quindi la pellicola merita mezzo voto in più ed è grazie proprio alla storia e alla costruzione dei personaggi che ho vacillato ho vacillato perché a un certo punto come in tutte le pericole del genere tutti sembreranno colpevoli non lo saranno quasi mai quelli che vengono evidenziati come colpevoli sin dall'inizio non ha funzionato neanche la tecnica che non fallisce mai ovvero la persona che si vede di meno in questo caso è una persona che non vi dirò gli indizi c'erano la storia la costruzione dei personaggi è enormemente solida perché va a sviscerare tutti quelli che possono essere i vari altarini di una famiglia alto locata lo fa con saggezza con sapienza e ci mostra è veramente quello che può essere il groviglio che si va a generare per ottenere il denaro della famiglia perché ognuno poi ha il proprio interesse che c'è là dietro un sorriso di apparenza e così ci viene mostrato un costrutto di felicità che effettivamente non esiste si sgretola come sabbia al sole dopo essere stata costruita con un po di umidità un bel castello di sabbia che è stato messo su e poi non appena perde diciamo un po di freschezza inizia a sgretolarsi proprio proprio velocemente così perdonate la metafora un po lunga avviene anche per la famiglia Wimboli dove gli altarini vengono celati uno ad uno il passato che torna il passato che viene narrato per portarvi fuori strada tutto in una costruzione narrativa veramente eccellente e brillano i personaggi brillano tutti brillano i membri della famiglia brillano gli esterni brillano il corpo di polizia è la stessa vittima perché ci viene narrato tutto con un susseguirsi di presente flashback interrogatori passato passato ancora più lontano tutto con una fervida volevo dirvi immaginazione ed è anche un po così ma soprattutto con una vivida ed effettiva concentrazione su l'arco narrativo non rimarrete mai delusi o traviati da quella che è la storia da come viene mostrata la storia perché risulterà solida dall'inizio alla fine e i personaggi si aggrapperanno ad essa parteciperanno attivamente a costruirla a volte risulteranno quasi superfili nel momento in cui ci vengono mostrati per quello che realmente sono nulla di più di quello che sono mentre la nostra mente ci aveva costruito probabilmente intorno un bel castello inutile quando scoprirete chi è stato a commettere il reato vi renderete conto che la sua recitazione è ancora più mastodontica ricordate gli indizi pochi ma li avete coglieteli perché è chiaro è chiaro fin dall'inizio chi sarà il colpevole alla fine io purtroppo me lo sono fatto scappare dopo l'analisi alla quale avete ahimè dovuto assistere o che avete dovuto subire siete pronti a rispondere all'unica domanda che va ora a contraddistingue le recensioni immonda offesa per lo sguardo o sfavillante meraviglia allora nessuna delle due onestamente nessuna delle due però se dovessimo rifare un riassunto di tutto the perfect couple è una miniserie televisiva del 2024 ideata da jenna lamia e distribuita da netflix tratta dall'omonimo romanzo di elen hildebrand emily sachs è prossima al matrimonio con benji un rampolo della famiglia wimbley ma purtroppo ci scappa il morto composta da sei episodi da circa da 42 minuti all'ora ciascuno attori e recitazioni estremamente convincenti tra tutti per me quella che brilla di più da cotta fennin trovate poi nell'apposito capitolo quella che è un'analisi sicuramente più dettagliata regia scenografia fotografia e colonna sonora che rappresenta il capitolo più elevato di tutta la pellicola mai mai fuori fuoco una scenografia che va a ricostruire con sapienza gli ambienti benestanti del mondo nel quale viviamo una fotografia grandiosa grandiosa perfetta che non sbava mai una colonna sonora che accompagna lo spettatore lungo un tragitto nel quale l'unica domanda vera sarà chi ha commesso l'omicidio storia costruzione dei personaggi che subito segue a ruota il capitolo precedente perché la storia è costruita con estrema sapienza l'arco narrativo è sviluppato attraverso personaggi che si aggrappano alla storia stessa e contribuiscono a svilupparla a volte sembrano più grandi a volte più piccoli a volte sembrano più cattivi di quello che poi realmente sono vi vengono mostrati indizi che io purtroppo non ho saputo cogliere ma vi faranno capire con attenzione chi ha commesso l'omicidio un giudizio personale estremamente positivo estremamente una forbice dal 7 più al 7 e mezzo io ho dato 7 e mezzo mia moglie ha dato un bel otto sta a voi stabilire quale sia il vero punto di equilibrio tra l'immondo offesa per lo squadro o la sfavilante meraviglia sicuramente per me si avvicina di più alla sfavilante meraviglia e quasi è a qualche centimetro dal toccarla perché comunque ci sono state delle piccole sobbavature oppure un po' diciamo di deja vu che ha minato il tragitto però l'ho divorata in un giorno un prodotto che mi sento di suggerire a tutti gli amanti del genere e a tutti gli spettatori di netflix in assoluto fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre vi ringrazio e vi saluto vi augurandovi un buon proseguo di giornata un ciao da EMI